Forse ha perso il controllo prima di schiantarsi violentamente al suolo e poi contro un'auto che sopraggiungeva dalla corsia opposta. Neppure il casco che indossava al momento dell'impatto è bastato a salvargli la vita. È morto così questa mattina un 35enne originario di una cera inferiore che stava percorrendo la Litorania tra Salerno e Ponte Cagnano-Faiano. L'incidente è avvenuto tra le curve dell'Isola Verde. Stava andando a lavoro proprio in uno dei locali turistici della zona dove però non è mai arrivato. Dopo lo schianto la motocicletta ha preso fuoco ed è andata completamente distrutta. Fatale invece per il centauro il trauma cranico riportato nell'incidente. Drammatica la scena che si sono trovati di fronte i vigili del fuoco, i carabinieri, i sanitari del Vopi e della Croce Bianca. Inutili purtroppo i tentativi di rianimare il giovane che è praticamente morto sul colpo. Il tratto di strada è rimasto chiuso per ore in entrambe i sensi di marcia in attesa dei rilievi da parte dei carabinieri. La procura di Salerno intanto ha aperto un'inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. La Litorania si conferma dunque la strada della morte. Solo dall'inizio dell'anno sono già sette le vittime sull'arteria delle vacanze tra le più pericolose non solo della provincia di Salerno ma di tutta la campagna. Numerose le campagne per la sicurezza così come le richieste di interventi incisivi per garantire l'ingolumità di chi la traversa, siano essi centauri, ciclisti o automobilisti. Una striscia d'asfalto che continua ad esigere un pesantissimo tributo in termini di vite umane.